La tecnologia al servizio della sicurezza. A Bari la decima edizione di SecurCity, la mostra convegno dedicata alle forze dell'ordine per affrontare i temi legati alla legalità. Un momento per fare il punto sulla situazione in città alla luce delle nuove tecnologie e dell'impegno profuso dalla polizia locale. Le tematiche sono rilevanti di comuni interessi trasversali per tutti i corpi di polizia locale, quindi un momento importante ritengo di approfondimento e studio. Che tipo di supporto arriva dalle nuove tecnologie? Le tecnologie svolgono un ruolo importante, dobbiamo imparare ad utilizzarle nel rispetto dei ruoli, nel rispetto della privacy, nel rispetto delle tecniche investigative, ma possono dare sicuramente un apporto importantissimo per le attività di polizia giudiziaria. Fra l'altro io vedo su Bari, sono qui da poco ma vedo grandissima attenzione proprio sulle tecnologie, su tutte quelle che sono le innovazioni nel campo specifico della sicurezza e questo sicuramente è un aspetto che dà un quadro di maggiore affidamento complessivo del sistema, cosa che sto già verificando in questa città. C'è grandissima collaborazione fra le varie forze di polizia, compresa la polizia locale.